Al di là della parete Molti anni fa, mentre mi dirigevo da Hong Kong a New York, trascorso una settimana a San Francisco. Era passato parecchio tempo da quando ero stato in quella città, e durante un periodo i miei affari in Oriente avevano prosperato al di là delle mie aspettative. Ero ricco, e potevo permettermi di tornare nel mio paese, per inverdire l'amicizia con i miei compagni di gioventù, che erano ancora in vita e si ricordavano di me con un affetto di vecchia data. Speravo che tra questi ci fossimo un Dampier, un vecchio compagno di scuola, con il quale avevo intrattenuto un rapporto epistolare e saltuario, cessato da tempo, come succede nelle corrispondenze tra uomini. Forse avrete notato che la riluttanza a scrivere una semplice lettera amichevole è direttamente proporzionale al quadrato della distanza tra voi e il vostro corrispondente. È una legge. Ricordavo Dampier come un bel giovane forte, dedito agli studi, con un'avversione al lavoro e una marcata indifferenza verso molte preoccupazioni mondane, compresa la ricchezza che comunque aveva ereditato in quantità sufficiente da porlo al riparo da ulteriori necessità. Nella sua famiglia, una delle più antiche aristocratiche del paese, era credo una questione di orgoglio che nessun membro si fosse mai dedicato al commercio e alla politica, ne fosse mai stato insignito di un'onorificenza legata a queste attività. Moong era un tantino sentimentale e singolarmente incline alla superstizione, il che non diceva a studiare ogni tipo di materia occulta, sebbene la sua sanità mentale lo avesse protetto da credenze estravaganti e pericolose. Aveva fatto delle audace incursioni nel regno delle illusioni, senza rinunciare a rimanere nella regione parzialmente perlustrata e tracciata sulle carte, che ci piace chiamare certezza. La notte in cui andai a trovarlo era tempestosa. Era iniziato l'inverno californiano e la pioggia incessante sciabordava sulle strade deserte o sollevate da irregolari raffiche di vento veniva scagliata contro le case con una violenza incredibile. Non senza fatica il vetturino riuscì a giungere a destinazione, in un sobborgo poco popolato che si trovava fuori mano sul litorale oceanico. La casa, alquanto brutta all'apparenza, sorgeva nel bel mezzo del giardino, che da quanto potevo vedere nelle tenebre era privo sia di fiori che di erba. Tre o quattro alberi che si contorcevano e gemevano nel suppizio della tempesta, sembravano voler fuggire al tetroambiente circostante e cogliere l'opportunità di trovarne uno migliore alla larga da quei luoghi. La casa era una struttura di mattoni a due piani, con una torre più alta di un piano che si trovava in un angolo. Da una finestra della torre proveniva l'unica luce visibile. Qualcosa, nell'aspetto della casa, mi fece rabbrividire. Reazione questa a cui contribuì un rivolo d'acqua piovana, che mi scese lungo la schiena mentre correvo a ripararmi nel vano della porta. In risposta al biglietto, in cui gli annunciavo la mia intenzione di andare a trovarlo, Dampier aveva scritto «Non suonare il campanello! Apri la porta ed entra!» Così feci. Le scale erano debolmente illuminate da un'unica lampada a gas, in cima alla seconda rampa. Riuscì a raggiungere il pianerottolo senza combinare guai, ed entrai da una porta aperta nella stanza quadrata e illuminata dalla torre. Dampier mi venne incontro in vestaglie pantofole, salutandomi con la cordialità che mi ero augurato, e anche se avevo pensato che sarebbe stato più opportuno, da parte sua, darmi il benvenuto all'ingresso, di primo sguardo dissipò l'impressione che si fosse comportato in modo inospitale. Era cambiato. Pur avendo mai appena superato la mezza età, aveva già i capelli grigi, e si era molto incurvato. La corporatura era magra e spigolosa, il volto era solcato da rughe profonde, la carnagione mortalmente pallida e senza nemmeno un tocco di colore. Gli occhi, grandi in modo spropositato, ardevano di un fuoco quasi soprannaturale. Mi fece accomodare, mi offrì un sigaro, e con una sincerità solenne e inequivocabile mi assicurò di essere felicissimo di rivedermi. Conversammo di argomenti di poca importanza, ma per tutto il tempo fui dominato da un senso di malinconia dovuto al suo grande cambiamento. Doveva essersene accorto perché all'improvviso mi disse con un sorriso quasi raggiante, sei rimasto deluso del mio aspetto, non summa quali serum. Non saprevo cosa rispondere, ma riuscì a dire, ma veramente non saprai, il tuo latino è sempre lo stesso. Si illuminò nuovamente. No, disse, essendo una lingua morta mi si addice sempre di più, ma ti prego di portare pazienza. Nel posto in cui sto per andare si parla una lingua migliore. Vuoi che ti mandi un messaggio in quella lingua? Il sorriso svanì mentre parlava, e quando finì il discorso mi guardò negli occhi con una serietà che mi inquietò. Però non volevo arrendermi al suo stato d'animo, né permettergli di vedere quanto profondamente ne avesse colpito la sua premonizione di morte. Penso che ci vorrà ancora del tempo, dissi, prima che il linguaggio umano smetta di servire alle nostre necessità, e allora non esisteranno più, né le necessità, né i loro eventuali servizi. Non rispose, e anch'io rimasi in silenzio, perché la conversazione aveva preso una piega deprimente, ma non sapevo come renderla più piacevole. Improvvisamente, in una pausa della tempesta, quando il silenzio di tomba sembra quasi allarmante in contrasto col frasfuono precedente, udì degli avibattiti che parevano prevenire dalla parete dietro alla mia sedia. Il suono sembrava prodotto da una mano umana, ma non era una richiesta di poter entrare, bensì, pensai, un segnale convenuto, una conferma della presenza di qualcuno nella stanza accanto. La maggior parte di noi, credo, ha più esperienza in questo tipo di comunicazioni di quanto voglia ammettere. Guardai d'ampiede. Anche se nel mio sguardo c'era una nota di divertimento, non ci fece caso. Sembrava essersi dimenticato della mia presenza, e fissavo la parete alle mie spalle con un'espressione negli occhi che non sono in grado di definire, sebbene il ricordo che ne servo ancora oggi sia vivido quanto alla sensazione che provai allora. La sensazione era imbarazzante. Mi alzai per congedarmi. Allora d'ampiede sembrò tornare in sé. Ti prego, resta seduto, disse. Non è niente, non c'è nessuno di là. Ma i battiti si ripeterono e con lo stesso ritmo, lento ma insistente. Scusami, dissi. È tardi. Posso tornare domani? Sorrise, in modo leggermente meccanico, pensai. È molto gentile da parte tua, disse. Ma non è necessario. In realtà, questa è l'unica stanza della torre e non c'è nessuno di là. Almeno. Non completò la frase, si alzò e spalancò una finestra, l'unica apertura nella parete dalla quale sembrava provenire il suono. Guarda! Non sapendo cos'altro fare, lo seguì alla finestra e guardai fuori. Un lampione poco distante gettava abbastanza luce nell'oscurità in cui la pioggia aveva ripreso a scendere copiosa per rendere del tutto chiaro che non c'era nessuno. In realtà non c'era nient'altro che la parete spoglia della torre. Lampie chiuse la finestra e facendomi cenno di sedermi ritornò al suo posto. L'episodio in sé non era particolarmente misterioso. Si potevano trovare una dozzina di spiegazioni plausibili sebbene non me ne venisse in mente nemmeno una. Eppure mi colpì in modo strano, forse soprattutto per gli sforzi del mio amico di rassicurarmi che sembravano conferire all'episodio un certo significato e una certa importanza. Mi aveva dimostrato che non c'era nessuno ma era proprio questo che attirava tutto il mio interesse e non mi diede alcuna spiegazione. Il suo silenzio era irritante e mi indispose. Mio caro amico disse in tono leggermente ironico Temo non ho intenzione di mettere in dubbio il tuo diritto a ospitare tutti gli spettri che ti aggradano e che si accordano alla tua nozione di compagnia. Non è cosa che mi riguardi ma essendo un semplice uomo d'affari e per lo più di questo mondo trovo che gli spettri non recchino alcun giovamento alla mia pace e alla mia tranquillità. Andrò in albergo dove gli ospiti sono ancora in carne ed ossa. Non fu un discorso molto educato ma egli non diede alcun segno di risentimento. Sì gentile rimani disse ti sono grato per la tua presenza. Quel che ha sentito stanotte io credo di averlo sentito già due volte. Adesso so che non si trattava di un'illusione. Questo significa molto per me molto più di quanto immagini. Armati di un altro sigaro o di una buona dosi di pazienza mentre ti racconto la storia. La pioggia scendeva ora più regolare con un mormorio lento e monotono interrotto a lunghi intervalli dalle improvvise sferzate dei rami degli alberi quando il vento si levava e si affievoliva. Era notte fonda ma sia la partecipazione che la curiosità mi trattennero ad ascoltare di mia spontanea volontà il monologo del mio amico senza mai interromperlo. Deci anni fa disse occupato un appartamento al pian terreno di una casa in una schiera di edifici tutti uguali dalla parte opposta della città su quella che chiamano Rincon Hill. Un tempo era il quartiere migliore di San Francisco ma poi è caduto in uno stato di abbandono e di rovina in parte perché il carattere primitivo della sua architettura domestica non si confaceva più ai gusti mutati dai nostri cittadini più ricchi in parte perché alcune migliorie l'avevano trasformato in un rudere. La schiera di edifici in cui ho vissuto era un po' discosta dalla strada e ogni abitazione aveva un giardino in miniatura separato da quelli confinanti da una bassa recensione di ferro edificio in due con matematica precisione da un vialetto di ghiaia bordato di bosso dal cancello alla porta. Una mattina mentre lasciavo il mio appartamento vede una ragazza entrare nel giardino accanto al mio sulla sinistra. Era una calda giornata di giugno e la giovane indossava un leggero abito bianco. Sulle sue spalle pendeva un ampio cappello di paglia abbondantemente decorato di fiori e di fiocchi secondo la moda del periodo. La mia attenzione non venne attratta a lungo dalla squisita semplicità del vestito perché non si poteva guardare il suo viso e pensare a qualcosa di terreno. Non aver paura non lo profanerò descrivendolo. Era di una bellezza straordinaria. Tutto quello che mai avevo visto ho sognato della bellezza era incarnato in quell'impareggiabile ritratto dipinto dalla mano dell'artista divino. Mi commosse così profondamente che senza pensare allo sconvenienza del gesto mi tolse inconsciamente il cappello come un cattolico devoto o un protestante ben educato si scopre il capo davanti a un'immagine della beata vergine. La fanciulla non mostrò alcun dispiacere si limitò a volgere i suoi splendidi occhi scuri verso di me con uno sguardo che mi tolse il respiro e senza altra reazione al mio gesto entrò in casa. Per un attimo rimasi immobile con il cappello in mano dolorosamente consapevole della mia ascortesia. eppure così soggiogato dell'emozione ispiratami da quella visione di incomparabile bellezza che il mio pentimento fu meno profondo di quanto avrebbe dovuto essere. Poi me ne andai per la mia strada lasciandomi il cuore alle spalle. Se le cose fossero andate come al solito sarei dovuto rimanere lontano da casa fino al calare delle tenebre. Ma a metà pomeriggio ero già tornato nel mio giardinetto ingendomi interessato ai pochi fiori insignificanti che non avevo mai degnato di uno sguardo prima di allora. La mia speranza fu vana. La fanciula non apparve. A una notte inquieta segui una giornata di aspettative e delusioni. Ma il giorno dopo mentre vagavo senza meta nei dintorni la incontrai. Naturalmente non fui così avventato da scoprirmi di nuovo il capo né mi arrischiai a manifestare un interesse nei suoi confronti guardandola troppo a lungo. Però il cuore mi batteva all'impazzata. Tremai e mi risi conto di arrossire mentre la fanciulla volgeva i grandi occhi neri verso di me dimostrando di riconoscermi con uno sguardo completamente privo di sfacciataggine e civetteria. Non ho intenzione di annoiarti con i particolari. In seguito ho incontrato la fanciulla molte altre volte ma non le ho mai rivolto la parola ne ho cercato di attirare la sua attenzione e non ho mai tentato di fare la sua conoscenza. Forse non riuscirai a capire completamente la mia rinuncia che richiese uno sforzo in mano e di abnegazione. Che fossi innamorato a pazzo è vero ma chi può sconvolgere il proprio modo di pensare o cambiare il proprio carattere? Ero quello che alcuni sciocchi amano definire un aristocratico mentre altri ancora più sciocchi amano essere definiti in questo stesso modo e nonostante la sua bellezza il suo passino e la sua grazia la fanciulla non apparteneva alla mia classe sociale. Ero venuta a conoscenza del suo nome che è inutile riferire ed alcune notizie sulla sua famiglia. Ero un'orfana la nipote dell'insopportabile vecchia grassone cui apparteneva alla pensione in cui la ragazza abitava. La mia rendita era bassa che non ero portato per il matrimonio. Forse è un dono. Un legame con quella famiglia mi avrebbe condannato al suo stile di vita e mi avrebbe allontanato dai miei libri e dagli studi e mi avrebbe fatto scendere di rango nella sfera sociale. È facile deplecare tali considerazioni e io non voglio discolparmi. Accetto di sottopormi al giudizio ma se si vuole rispettare rigorosamente la legge bisognerebbe citare come coinputati tutti i miei antenati per generazioni e mi si dovrebbe permettere di invocare l'imperioso mandato dell'eredità per mitigare la pena. Ogni globulo del mio sangue ancestrale si pronunciò contro quel tipo di mesaians. In breve i miei gusti le mie abitudini il mio estinto e quel poco di ragione che l'infatuazione mi aveva lasciato si battevano tutti contro quell'unione. Inoltre ero un incorreggibile sentimentale e pensavo che una relazione spirituale e impersonale avesse un fascino sottile che la conoscenza avrebbe svilito per il matrimonio dissipato. Nessuna donna pensavo somiglia a questa creatura incantevole. L'amore è un sogno meraviglioso perché dovrei essere io a svegliarmi? La condotta dettata a me dal buon senso e dai sentimenti era ovvia. L'onore l'orgoglio la prudenza e la salvaguardia dei miei ideali tutto mi ordinava di andarmene ma ero troppo debole per eseguire quel comando. Il massimo che potei fare e con un grosso sforzo di volontà fu di smettere di incontrare la ragazza e così feci. Evitavo perfino gli eventuali incontri in giardino uscendo di casa solo quando sapevo che era andata lezione di musica e tornando dopo il calar della sera ma nel frattempo ero come in trance mi abbandonavo alle fantasie più seducenti e adeguavo la mia vita intellettuale ai sogni. Ah amico mio dal momento che le tue azioni hanno un'evidente relazione con la ragione non puoi capire il folle paradiso in cui vivevo. Una sera il diavolo mi mise in testa l'idea di essere un idiota indicibile facendo domande apparentemente spontanee e senza scopo venne a sapere dalla mia pettegola padrona di casa che la camera da letto della giovane era adiacente alla mia e che le due stanze erano separate solo da un muro divisorio. Cedendo a un istinto improvviso e volgare bussai delicatamente alla parete naturalmente non ebbe risposta ma non intendevo accettare di essere respinto ero in preda alla pazzia e ripetei quel folle gesto offensivo ma nuovamente inutile ed ebbi la decenza di desistere un'ora dopo mentre ero immerso nei miei studi infernali udì o pensai di udire una risposta al mio segnale mi precipitai verso la parete facendo cadere i libri e con tutta la calma che il mio cuore in subbuglio mi concedeva bussai lentamente tre volte stavolta la risposta fu chiara e inconfondibile uno due tre la ripetizione esatta del mio segnale questo fu tutto ciò che riuscì a strapparle ma era abbastanza troppo anzi la sera dopo e per molte altre sere quella pazzia continuò e fu sempre io ad avere l'ultima parola per tutto quel periodo ero fuori di me dalla gioia a causa del mio carattere ostinato perseveravo nella mia decisione di non vederla poi come dovete aspettarmi non ricevetti più risposta è disgustata mi dissi da quella che considera la mia timidezza nel fare passi avanti più definiti decisi di cercarla di fare la sua conoscenza e cos'altro non sapevo e non so nemmeno adesso come sarebbe andata a finire solo che passai giorni e giorni nella speranza di incontrarla ma in vano non la vidi e non lo sentii più la giravo per le strade in cui ci eravamo incontrati ma lei non fece più ritorno dalla mia finestra sorveglia il giardino davanti alla sua casa ma non la vidi né entrare né uscire caddi nel più profondo abbattimento poiché ero convinto che se ne fosse andata però non feci nulla per risolvere il dubbio interrogando la padrona di casa per la quale nutrimo un'avversione invincibile dal momento che una volta aveva parlato della ragazza con meno rispetto di quanto secondo me le fosse dovuto poi giunse la fatidica notte logorato dall'emozione dall'indecisione e dallo sconforto ero tornato a casa presto ed ero piombato in quel sonno agitato che ancora mi era possibile nel cuore della notte qualcosa qualche forza maligna che aveva deciso di distruggere la mia pace per sempre mi costrinse ad aprire gli occhi e a sedermi ormai completamente sveglio e a mettermi attentamente in ascolto di non sapevo cosa poi mi parve di sentire un lieve battito alla parete un mero azzenno al solito segnale dopo pochi istanti il suono si ripete uno due tre non più forte di prima ma rivolgendosi stavolta a sensi vigili e tesi a percepirlo fui sul punto di rispondere quando satana si intromisse di nuovo nelle mie faccende insimandomi subodolamente l'idea di una rivalsa la fanciulla mi aveva crudelmente ignorato e ora l'avrei ignorata io che stoltezza incredibile che Dio mi perdoni rimasi sveglio per il resto della notte a nutrire la mia ostinazione con vergognose giustificazioni e e ad ascoltare il giorno dopo in tarda mattinata mentre uscivo dalla mia abitazione mi imbattei nella padrona di casa che stava entrando buongiorno signor Dampier disse ha saputo la novità le risposi che non avevo saputo nessuna novità con un tono tale da farle capire che non avevo intenzione di venirne a conoscenza ma i miei modi passarono inosservati sulla giovane malata della porta accanto continuò a blatterare cosa? non lo sapeva? come? non stava bene da settimane e adesso? per poco non le saltai addosso e adesso? gridai adesso cosa? è morta ma questo non è tutto la notte fonda come venne a sapere in seguito la malata risvegliandosi da un lungo torpore dopo una settimana di delirio aveva chiesto pure nelle sue ultime parole che il suo letto venisse spostato dalla parte opposta della stanza quelli che l'assistevano avevano pensato che la richiesta fosse un capriccio dovuto al delirio ma l'avevano accontentata e lì la povera anima morente aveva chiamato a raccolta la sua debole volontà per riallacciare un legame spezzato un filo d'oro di sentimento tra la sua innocenza e una mostruosa mischilità ciecamente e brutalmente soggiogata dalla legge dell'egoismo come potevo porre rimedio quali messe possono essere celebrate per il riposo delle anime che vagano in notti come queste spiriti sospinti da venti invisibili che giungono nella tempesta e nelle tenebre con segnali portentosi allusioni a ricordi e presagi di morte questa è la sua terza visita la prima volta ero troppo scettico per verificare con altri metodi oltre a quelli naturali il carattere di questa manifestazione la seconda volta rispose al segnale dopo che fu ripetuto parecchie volte ma senza risultato la ricorrenza di stanotte completa la triade fatale citata da Parapellius Nicromantius non c'è nient'altro da aggiungere quando Dampieb è concluso la sua storia non trovai nulla di pertinente da dire e fargli delle domande sarebbe stata un'odiosa insolenza nel saio gli augurai quella buonanotte in modo da trasmettere la mia solidarietà che accolsi in silenzio con una stretta di mano quella notte solo con il suo dolore e con il suo rimorso trapassò nell'ignoto con il suo rimorso con il suo rimorso